Weekend ricchissimo per la nuova lucchese libertà stegata di Lucca. Domani sera presentazione alla città durante la notte bianca dalle ore 21, diretta integrale sulla nostra emittente, domenica esordio stagionale in Coppa Italia nel derby contro la Pistoiese. Ed è proprio di oggi l'ufficialità dello spostamento di orario della gara dalle 16 previste alle 20.45, orario senza dubbio più comodo sia per i calciatori ma anche per i tifosi delle due squadre. Ha privato quindi la volontà delle società sul calendario della Lega di Serie D. Una partita ancora più sentita rispetto allo scorso anno, anche perché le due nobili decadute non si affronteranno in campionato. Ci sarà poi da capire su chi punterà mister Pagliuca, che in allenamento sta mischiando a più riprese le carte, tanto che al momento gli unici che sembrano avere il posto fisso sono Casa Pieri, Teipali e Daliboni, che dovrebbe mantenere i gradi di capitano. Insomma, pretattica e curiosità per scoprire l'undici che affronterà gli arancioni di mister Morgia. Con l'acquisto in casa rosso-neia di Lo Sicco si aggiunge incertezza per il titolare nel ruolo dietro alle punte. Si apre anzi la possibilità di avere più di un giocatore di fantasia centrocampo con Olè e Chianese, al petto avanzato per il quale prettono tutti alla pari, con Nazareno Tarantino, che non escluso, possa partire dal primo minuto.